Cosconiano, affetto è una cosa umana, è tutta la vita con Beppe e Devo Il loro traditore Il loro traditore, sì sì, certo Non meritano veramente rispetto perché hanno loro, sono loro che hanno tradito 9 milioni di persone, di elettori che l'hanno votato La camera ha detto soltanto il modo di comunicare di Beppe sul mondo La camera non ce la sapeva fin dall'inizio il modo di comunicare di Beppe, un po' solo di persone che badagnano 20, di là è così Ma chi erano sta gente? No, no, io sono contro Com'è che sta intenzione? Bisogna essere compatte ragazzi, questa è la verità A me, a me piace